Buongiorno a tutti, siamo qui all'ambasciata di Dubai, mi scusa se non sono presente con voi, ma oggi avevamo un incontro già fissato con l'ambasciatore referente dell'Expo Dubai per vedere le attività da fare. Siamo qui anche sul delega della Regione Marche, dell'assessore Bora e dal presidente per iniziare dei rapporti. Parlando di MICAM, ringrazio tutti i presenti alla conferenza stampa, ci tenevamo come Camera di Commercio delle Marche, come Giunta, insieme al vostro referente Andrea Santori, ad essere presenti al MICAM in collaborazione con le associazioni categoria. Oggi è un nuovo sistema che noi vogliamo mettere in campo, ovvero una Camera di Commercio al fianco del mondo imprenditoriale. Lo faremo il 16-17 con due eventi importanti che vi spiegheranno i relatori che avete lì. Vi posso assicurare la nostra partecipazione su tutte le attività che possono riguardare il MICAM e la calzatura. Speriamo che quest'anno sia un evento importante per i nostri calzaturieri e portando avanti, oltre al MICAM, anche questi incontri qui a Dubai, all'ambasciata di Dubai. Speriamo di portare delle aziende sul territorio dubaiano. Vi auguro buon lavoro a tutti e ci vedremo al MICAM.